Bentornati, allora ieri sera sono stato a vedere questa produzione di Les Miserables al Teatro degli Archimboldi di Milano era uno spettacolo che devo dire che attendevo con una certa ansia perché Les Miserables è uno dei miei spettacoli preferiti e in assoluto uno dei musical preferiti insieme probabilmente al Fantasma dell'Opera la prima volta l'ho visto a Londra vi direi nel 93-94, anno più o meno è da subito diventato uno degli spettacoli a cui sono più legato non solo per la spettacolarità dell'allestimento scenico, non solo per la bellezza della musica ma proprio perché è uno spettacolo incredibilmente coinvolgente e incredibilmente capace di suscitare un'ampia varietà di emozioni molto forti forse è per questo che da quasi 40 anni, ormai l'anno prossimo sono 40 anni esatti, nel 1985 questo spettacolo è ininterrottamente rappresentato a Londra e fondamentalmente in tutto il mondo e devo dire che ho sempre trovato un vulnus un po' particolare nella programmazione di una città comunque internazionale come Milano il fatto che a Milano non fosse mai venuto per cui siccome era da più di un anno che era stato annunciato questo spettacolo non vedevo l'ora di vederlo, ieri sera sono andato a vederlo e ora ve lo racconto allora innanzitutto qualcuno è rimasto un po' spiazzato e qualcuno forse in parte è anche deluso dal fatto che questa non fosse una rappresentazione scenica delle Miserables ma più un Les Miserables in concerto in realtà chi è rimasto un po' deluso ha poca dimestichezza con questo spettacolo perché comunque si sapeva insomma che era una rappresentazione semiscenica con l'orchestra messa dietro il palco e le voci schierate con costumi e in forma semiscenica nonostante questo devo dire e benché fondamentalmente anch'io avrei preferito la forma scenica tradizionale diciamo così io credo che qui sia stata fatta una scelta cioè quando vai a vedere il musical anche a Londra ci sono dei compartimenti che sono inevitabilmente più ristretti cioè l'orchestra è sempre abbastanza ristretta e anche il coro non è gigantesco questa cosa viene poi compensata da scene bellissime chi l'ha visto sa di cosa sto parlando quella piattaforma rotante che era già stata utilizzata ma che in questo spettacolo era particolarmente efficace chi ha visto gli spettacoli celebrativi del decennale e del venticinquesimo quindi nel 95 e nel 2010 conosceva già come dire questo tipo di rappresentazione che fondamentalmente ricorda in qualche modo l'oratorio bacchiano quindi in forma semiscenica con i cantanti schierati ma non appunto completamente scenica e comunque l'edizione che vi so di sera è stata più scenica di quella dei due concerti celebrativi di cui vi ho appena parlato quindi con più elementi scenici e anche una microfonazione diversa nel senso cioè nelle due edizioni celebrative c'erano proprio i microfoni piazzati quindi i cantanti erano anche molto vincolati alla presenza del microfono che era quello fisso per tutti quindi fatalmente limitava di molti movimenti nella versione di ieri sera c'erano sì i microfoni quelli fissi ma c'erano anche gli archetti almeno i protagonisti almeno i cantanti principali avevano gli archetti e questo consentiva loro di muoversi sicuramente di più rispetto alle edizioni celebrative in più praticamente la buca dell'orchestra e dell'Archimboldi è stata coperta una piattaforma perché appunto l'orchestra è stata messa dietro il palco e è stata fatta una specie di passerella che veniva in proscegno e sulla quale i cantanti in certi momenti particolari della recita arrivavano e quindi insomma proprio vicinissimi al pubblico e ovviamente questa cosa si è potuta fare solo perché c'erano ovviamente gli archetti almeno ai protagonisti l'amplificazione molto buona l'impianto audio molto buono decisamente spettacolare l'impianto luci che in questo senso è diventato parte integrante della scenografia cioè c'era proprio un enorme impianto luci che si abbassava e si alzava spesso mischiato ad altri elementi scenici come scale come le famose barricate di cui si parla nel musical e quindi insomma devo dire che solo l'impianto luci è stato veramente bello molto molto ben fatto e molto ben gestito è un light designing molto bello e decisamente di grande grande effetto senza però voler strafare perché molte volte il light designing tende un po' come dire a prendere il facile applauso perché il colpo di luce con un colpo magari di musica insieme fa scattare l'applauso ma insomma è un mezzo un po' bassino ecco dal punto di vista artistico del light designing per ottenere un applauso invece devo dire che le luci erano fatte veramente molto 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 bene veniamo al cast allora Jean Valjean è stato interpretato da Kilian Donnelly molto bravo mi è piaciuto molto il classico bari tenore che devo dire all'inizio non mi aveva convinto tantissimo perché sul Took My Flight aveva preso un falsettone non particolarmente bello ecco invece poi quando è arrivato Who Am I che poi insomma è un po' come l'acuto di certe cose dopo non è che si aspetta ma vediamo lo fa non lo fa come lo fa l'ha fatto molto bello molto pieno a voce piena e sono sì naturale che si è sentito forte e chiaro diciamo così perché il punto qual è che essendo i cantanti che fanno i musical di varie estrazioni a volte più classica a volte più moderna hanno ovviamente una diversa emissione di voce insomma e che quindi molte volte soprattutto certi acuti vengono sentiti fatti in maniera molto molto diversa da un cantante all'altro sicuramente promosso pieni voti Javert è stato interpretato da Bradley Jaden anche lui insomma prodotto del vivaio di quello che potremmo chiamare il sistema britannico che mi è piaciuto pur non avendomi entusiasmato devo dire anche se Stars l'ha cantata veramente in maniera in maniera esemplare ed è stato uno degli applausi più forti che ho sentito era fra i tanti fra i tanti che ho sentito ovviamente quando dico una cosa mi è piaciuta o non mi è piaciuta settiamo bene come dire un paradigma di riferimento il livello medio era altissimo ok proprio perché ripeto da tanti tanti anni decenni insomma c'è una scuola di musical negli Stati Uniti e anche per certi versi anche di più nel Regno Unito che forma generazioni e generazioni eserciti di cantanti quindi il livello è sempre altissimo quindi quando vi dico qualcuno mi è piaciuto o non mi è piaciuto tenete sempre presente che comunque il livello medio è stato decisamente soddisfacente all'interno di questo livello molto soddisfacente c'è stata Fantin interpretata da Shanna Ewitt che è stata veramente bravissima veramente molto 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 brava perché ha saputo dare quel giusto equilibrio che secondo me ci sta nel musical cioè dire il musical soprattutto un musical sinfonico poi più tardi vediamo la differenza non è tanto diverso da un'opera dal punto di vista dell'aderenza a quello che c'è scritto ok cioè mentre in un musical basato su su canzoni pop il cantante si può prendere anche qualche libertà non solo interpretativa ma proprio anche vocale anche musicale può fare qualcosa detto in altri temini può fare qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è scritto nei musical sinfonici come le Miserables come dire la possibilità di movimento del cantante è decisamente è decisamente minore ecco secondo me lei ha saputo in maniera veramente egregia trovare un ragionevolissimo compromesso tra l'aderenza al testo l'aderenza ciò che ha scritto è un che di interpretazione sua personale che secondo me la rende la cantante migliore dello spettacolo cantante donna tra gli uomini non possiamo non citare Gavin Lee che ha interpretato Tenergie in una maniera strepitosa strepitosa migliore perfino di quelli a cui l'avevo visto interpretare a Londra veramente bravissimo un attore strepitoso la parte di Tenergie come anche quella di Madame Tenergie è una parte sicuramente vocalmente meno impegnativa di un Valjean o di una Fantine o di un Marius sicuramente meno impegnativa perché è una parte più attoriale che cantata ma nonostante questo sono stati veramente bravissimi tutti e due lui in particolare ora non sto a linkarvi tutto il cast però vi assicuro che non si è mai sceso al di sotto o di un sette e mezzo otto come voto anche singolo allora core orchestra qui come detto l'orchestra non era in buca benché agli Archibaldi ovviamente ci sia la buca dell'orchestra in realtà questo tour mondiale che è iniziato di questo spettacolo presumo io culminerà nel 2025 con il quarantennale appunto del debutto e si chiama Arena Spectacular proprio perché fondamentalmente è pensato per i grandi spazi anche all'aperto e ovviamente per una produzione estiva primaverile estiva insomma in estate si può fare in inverno no in inverno si fanno i teatri grossi come gli Archibaldi ed essendo appunto una produzione pensata non per i teatri ma per le arene all'aperto è stata scelta questa disposizione dell'orchestra dietro che comunque funziona molto bene e che devo dire alla fin fine è un elemento scenografico quindi l'orchestra era composta da 26 musicisti che possono sembrare pochi e che è abituato all'opera ma che sono sicuramente di più di quelli che vediamo normalmente nelle produzioni di Londra e di New York non dimenticate mai però che i teatri d'opera possono permettersi orchestre molto grandi anche perché hanno comunque una serie di finanziamenti pubblici cosa che i musical non hanno quindi tutto è coperto dagli sponsor e dai e dai prezzo del biglietto insomma quindi è difficile insomma salvo un po' più in quelli celebrativi tipo quel decennale che ci sia un'orchestra di 70 elementi evidentemente anche perché girando per il mondo voi capite che diventa un costo praticamente insostenibile quindi però nell'economia di questi 26 ottimi musicisti che ieri sera erano diretti da Luke Coleman dico ieri sera perché in realtà c'è un direttore che è Brian Eads e poi due direttori assistenti che si alternano nelle varie recide perché se è un tour mondiale insomma ci sta un po' di un po' di ricambio e anche perché questa cosa appunto aiuta giovani direttori a crescere esattamente come aiuta cantanti a crescere per cui magari uno di uno di quei quattro cantanti che facevano non so la parte dei galeotti all'inizio tutti bravissimi tra l'altro probabilmente tra dieci anni canterà Jean Valjean insomma questo è il questo come dire l'iter della carriera di questi di questi artisti l'orchestra dicevo molto buona però nell'economia degli strumenti che sono stati scelti per questa per questa versione poi vi dirò anche dell'orchestrazione fondamentalmente ho trovato abbastanza di secondaria importanza l'arpa e questo per due ragioni in primis perché l'arpa non suona tantissimo nel corso di tutto di tutto il musical e poi perché comunque è proprio uno strumento scomodo e ingombrante e costoso da trasportare per cui io piuttosto avrei preferito francamente piuttosto l'arpa avrei preferito la chitarra perché devo dire che l'unica cosa che non mi è piaciuta dal punto di vista sonoro è le tastiere che suonano la parte della chitarra che era veramente brutto ecco probabilmente poi sono quelle sottigliezze che magari il pubblico anzi sicuramente di cui il pubblico non si accorge neanche ma insomma perché ha un orecchio un po' abituato ed educato il suono della chitarra finta è veramente brutto non so mi viene in mente per esempio l'inizio di Empty Chairs in Empty Tables ma insomma ma un po' in generale per cui forse a parità di numeri musicisti io avrei preferito avere la chitarra la chitarra piuttosto che l'arpa però questa è la scelta che è stata fatta a proposito del direttore Hugh Coleman ha diretto molto bene ma naturalmente insomma sono tutti spettacoli molto rodatti edifici che su questi spettacoli succedono succedono imprevisti però molte volte in diverse live mi avete chiesto se la funzione del direttore di un musical è sovrapponibile in qualche maniera al direttore dell'opera e dipende dipende dal tipo di musical su un musical basato principalmente su canzoni pop il ruolo del direttore è sicuramente più marginale in questo senso un po' sovrapponibile a quello che fa il direttore Sanremo sicuramente è quella differenza che però in questo caso non cura il direttore le orchestrazioni almeno quasi mai insomma in un musical invece sinfonico come Le Miserables che piaccia o non piaccia è un'opera moderna quindi ci sono tutti i problemi per un direttore di un'opera quindi gli attacchi quindi il respiro quindi andare insieme quindi seguire i cantanti quindi le cadenze insomma e tutti i problemi di insieme gli stacchi del tempo e anche perché non viene fatto col click quindi insomma è tutto veramente diretto veramente diretto dal direttore poi è chiaro insomma che saranno alla non so quante repliche hanno fatto tantissime per cui è chiaro che l'orchestra sa perfettamente quello che deve fare insomma quindi il spettacolo è assolutamente rodato però insomma il direttore dirige veramente ecco insomma quindi se la domanda è ma dirige quanto il direttore d'opera sì in questo genere di musical il direttore dirige esattamente quanto e come dirige un direttore d'opera le orchestrazioni sono state rifatte perché questa cosa perché quando si registra la prima incisione di un musical nuovo generalmente lo si fa con la grande orchestra quindi le orchestrazioni naturalmente sono fatte per l'orchestra sinfonica insomma e le tastiere e le percussioni insomma e tutto ciò che è compreso nell'organico orchestrale dopodiché quando poi si fa invece anche nei teatri importanti di musical a Londra l'organico è sempre molto più ridotto perché come detto prima già i biglietti di musical sono molto cari andare anche ad avere un'orchestra sterminata renderebbe la cosa economicamente insostenibile per cui vengono fatte le orchestrazioni più ridotte per poter appunto affrontare per poter affrontare una performance di otto recite alla settimana in questo caso è stata fatta una via di mezzo per cui le orchestrazioni sono state rifatte niente di stravolto però insomma con diverse con diverse differenze rispetto all'originale ma molto fatte molto bene quindi assolutamente tranquilli che se avete come dire nelle orecchie quelle originali queste nuove orchestrazioni sicuramente non ve le faranno rimpiangere e come dire ritroverete i vostri punti di riferimento poi se sarete attenti scoprirete qualche piccola differenza ma fondamentalmente funzionano molto 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 bene ecco chiudiamo col coro il coro strepitoso veramente strepitoso bravissimi tutti perché questo perché in realtà è un coro fatto da 26 solisti ovviamente a turno tutti si alternavano nei ruoli nei ruoli minori nei piccoli ruoli in questo musico ce ne sono tantissimi della frase qui o della o della frase là e quindi tutti questi qua sono comunque dei solisti e il coro che ho sentito ieri sera era migliore di quello che ho sentito quando l'ho visto a Londra l'ultima volta x anni fa per cui veramente veramente cioè i pezzi tutti i pezzi corali at the end of the day do you hear the people sing red and black one day more insomma sono tutti da pelle d'occa veramente e tra l'altro ieri sera io di brividi ne ho avuti tanti a me capita questa cosa che quando una cosa mi emoziona praticamente sento proprio qui un brivido che mi sa lungo la schiena e non è una cosa che mi capiti proprio sovente ecco ieri sera ne ho avuti tanti brividi quindi questo vuol dire che ho assistito a un gran bello spettacolo chiudiamo col pubblico il pubblico ha sicuramente molto apprezzato proprio c'è stato applausi molto forti ovazioni alla fine standing ovation tutto quello tutto quello che volete quello che mi ha sorpreso in parte forse in realtà è stato il fatto che io su uno spettacolo così importante che non è mai stato a Milano e che piaccia o non piaccia è uno degli spettacoli più importanti e influenti della storia del teatro mi sarei aspettato una serie di pienoni clamorosi invece di sera c'era tanta gente il teatro era pieno ma non era assolutamente sold out vero che non era la prima però insomma su dieci recite una città come Milano dovrebbe assorbire assorbire questo genere di di aspettativa ecco diciamo così e invece ancora una volta Milano secondo me non si dimostra all'altezza di un long running show sì c'era stato Grease negli anni negli anni 90 che era stato su più di un anno al teatro nuovo insomma proprio perché c'era la cuccarina insomma perché noi siamo comunque mediamente più portati ad andare a teatro per vedere un attore o un'attrice o un cantante o una cantante che non lo spettacolo mentre a Londra certo esistono le star dei musical e i grossi nomi dei musical ma tu vai a vedere lo spettacolo non vai a vedere quello lì che fa lo spettacolo poi vedi lo spettacolo ah c'è quello lì bravo meglio come dire una cosa in più però come dire c'è proprio un approccio diverso allo spettacolo che si va a vedere e questa cosa fa sì che appunto ieri sei al teatro fosse pieno ma non stra pieno e questa cosa veramente a me un po' spiace insomma perché anche solo per cultura teatrale anche solo per cultura generale mettetela come volete insomma uno spettacolo così che viene a Milano e non c'era mai stato insomma secondo me era obbligatorio andarlo a vedere quindi avete ancora qualche giorno restare in scena fino al 24 di novembre se non l'avete fatto andate a vedere questo spettacolo soprattutto se non l'avete mai visto e se l'avete visto andate a rivederlo così potrete fare potrete fare un paragone e chiudo quindi applaudendo ovviamente l'iniziativa del teatro degli Arcimboldi che ha fatto questo grosso sforzo produttivo che ha debuttato prima a Trieste come accade ormai da qualche tempo questa partnership che c'è tra gli Arcimboldi e Trieste e poi appunto è venuto a Milano e quindi veramente congratulazioni per questa per questa iniziativa e questo sforzo produttivo decisamente importante scrivete nei commenti che cosa ne pensate se avete visto questo spettacolo se l'avete visto chi vi è piaciuto di più chi vi è piaciuto di meno lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video non mancate